Perché hai deciso di andare in America? Mi guarda, ti dico la verità, già non trovavo la grinta giusta, la serenità, come dicevo, fuori calcio, non mi trovava niente di più di dare. Un vostro amico e un grande amico mio come Buffon mi ha detto, il giorno che non senti quel fuoco dentro, di andare a allenare, di sentire quella grinta per continuare a alti livelli, devi andare.